ok grazie va bene allora partiamo con il pug Firenze che in realtà è l'ultimissimo probabilmente l'ultimissimo è arrivato tra i pug e stava per partire proprio nel momento in cui è arrivato il lockdown a dirci no non c'è tanto il vivo speriamo non sia l'ultimo pug che si crea però diciamo cronologicamente volevamo fare partire questa questa iniziativa ancora non ci è permesso trovarci di fisicamente fare qualche incontro speriamo la nostra idea è iniziare a settembre nel frattempo abbiamo un canale su slack del grusp vi lascerò i miei contatti alla fine perché comunque possiamo iniziare a comunicare online organizzare organizzare i primi eventi però per ora quindi nella zona di Firenze siena prato pistoia è una zona esatto direi che è un ottimo ottimo esordio per un pug neonato partecipare alla prima edizione PHP pug ed inaugurarla addirittura inaugurarla addirittura mi sembra che ci siano tutti i presupposti per un ottimo inizio esatto e ti lascio la parola Leonardo ti lascio il tuo talk grazie 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 mille allora iniziamo ciao a tutti siete tantissimi e vi ringrazio per la fiducia che mi dà allora qual è la storia di questo talk voglio portarvi a fare un tuffo in quello che succede all'interno del core di Laravel è un framework molto molto usato le uso con grande soddisfazione da da tanto tempo e da quando inizio da quando ho iniziato a usare framework o ho sempre avuto quest'alone di magia intorno dove scrivevo una cosa in un file chiamato in una certa maniera e magicamente compariva nel browser non sapevo cosa cosa accadeva dietro e quindi questo talk si rivolge sia ai principianti o chi non ha mai visto Laravel o chi sta iniziando a usarlo perché toglie tutto quest'alone di magia e fa vedere esattamente come funzionano le cose però credo può anche essere utile per coloro che già lo usano da un po perché andando a vedere gli internals di Laravel si può capire come ottimizzare alcune cose come intervenire cosa cosa succede dentro per cui io ho trovato degli spunti per scrivere un codice migliore nello studiare questo 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 talk preparare questo talk quindi spero che sia utile sia utile anche per voi beh iniziamo diciamo partiamo da un preambolo la macchina che ospita la vostra applicazione Laravel ha un server web quindi un programma che prende richiesta http dall'esterno e tramite solitamente php fpm manda chiama lo script php di Laravel insieme a una serie di variabili che sarebbero i dati della mia richiesta il path il body gli header eccetera chiama questo script php di Laravel e da quel momento in poi Laravel comincia il suo il suo lavoro io per cominciare a scoprire cosa succede ho fatto una cosa molto semplice c'è un solo entry point in Laravel che il file public index index php ok sono sono partito da qua ho cominciato a vedere che cosa che cosa succede io lavorerò molto non lavorerò navigherò molto sul codice può essere un po forviante per cui mi sono creato vi condivido anche questa qua una mind map almeno abbiamo l'idea ognuno di queste macro categorie è un punto del file public index.php dai numerini qua dentro vedete anche come dov'è che si svolge la maggior parte del del lavoro per cui iniziamo procediamo dall'inizio allora Laravel è un'applicazione viene installata e i cuoi pacchetti vengono gestiti tramite composer per cui in tutti i progetti gestiti da composer la prima cosa che si fa è includere il file autoload di composer ok quindi qua dentro non c'è qua dentro non c'è nulla si fa il require dell'autoload cosa c'è nell'autoload diciamo che in maniera molto semplicistica un class map composer associa dei nomi di classe ai file in cui quelle classi sono sono definite in questa maniera quando noi nel nostro file vogliamo chiamare una classe di un pacchetto pacchetto interno composer ci aiuta a ci restituisce già la classe perché sa qual è il file dove andarlo a trovare e inoltre fornisce anche una una funzione che permette di stanziare quelle classi che non sono il class map che è chiaro che se io crea una nuova classe dentro la mia applicazione non devo per forza aggiornare composer ma se metto la classe giusta nel con il namespace corretto che rispetti il l'albero delle directory che composer si aspetta posso istanziare quella classe ovviamente nella se rifaccio un dump autoload di composer quella classe comparirà nel class map va bene comunque qui non c'è niente di niente di eclatante passiamo alla fase successiva che è quello del bootstrap ok il bootstrap è viene fatto con l'inclusione di questo file bootstrap app.php bene e qui si inizia si inizia a lavorare un pochino allora vediamo dobbiamo un po di zoom allora cosa succede in questo file per prima cosa istanziamo una nuova application ok application è il cuore dell'applicazione l'applicazione laravel se avete difficoltà a seguire il codice questa questa mappa segue il discorso per cui spero che si riesca a capire cosa facciamo quando si crea una nuova applicazione si fanno tre cose fondamentalmente si registrano i base bindings ok andiamo a vedere cosa fa questa funzione praticamente io setto l'istanza dell'app così che ogni volta che chiamo un'istanza dell'app la associo al dis quindi a questa a questa istanza della dell'applicazione istanzo istanzio anche il container quindi se io chiedo al service container di darmi l'istanza del container otterrò comunque la stessa la stessa classe istanzio anche mix e poi faccio definisco anche il singleton per il package manifest questo è un è un pacchetto che serve all'aravel per trovare i pacchetti installati all'interno all'interno della della directory dove sta la nostra della nostra applicazione torniamo indietro registriamo poi dopo i bindings i primi service provider sono tre i service provider che servono all'inizio event service provider che mi serve stanziarlo subito perché io da questo momento comincio poi a fare il dispaccio di alcuni eventi interni all'aravel per cui devo avere il service provider che mi stanzia l'handler dei vari eventi log service provider anche qui istanzio log service provider perché io posso avere un'eccezione in qualsiasi momento voglio avere il manager dei log disponibile in modo da poter loggare il l'eccezione o il problema che ho avuto routing service provider perché l'aravel è un framework per applicazioni web quindi qua dentro cominciamo già a caricare tutte le rotte che sono nei file web.php api.php quindi questo è proprio lo scheletro minimo di service provider che l'applicazione ha bisogno ovviamente non ci fermiamo a questi più avanti caricheremo gli altri passo successivo registriamo gli alias i core alias cosa vuol dire questo vuol dire che io quando chiedo app db dopo aver registrato l'alias il service container comincerà e cercherà se cercheranno al suo interno tra i servizi se c'è se c'è un database manager registrato se non lo trova se c'è un connect una classe che implementa connection resolver interface e mi restituirà quella ok quindi questi sono sono utilizzati molto all'interno di laravel ma li possiamo utilizzare anche noi quindi facciamo app file system e otterremo il gestore del file system di laravel ok bene e quindi questi sono sono le tre cose che facciamo nel momento in cui facciamo una new creiamo una nuova applicazione bene poi abbiamo queste tre assegnazioni noi diciamo che tutte le volte che cerchiamo un contract http kernel restituiamo questa classe ok lo facciamo anche per le applicazioni di console e anche per l'exception handler e anche questo è importante perché io da questo momento in poi ho già il file che mi renderizza e mi fa il report delle delle eccezioni quindi l'ho fatto subito qui è una delle prime cose che faccio ed è molto importante questo vediamo soffermiamoci qua perché questo è quello è quello che faremo cioè appunto laravel lavorando sul web questo è il kernel che viene caricato il più delle volte se vediamo questo kernel all'interno di app quindi è dentro il file della nostra applicazione quindi noi siamo autorizzati a modificare questo file va bene questo file se vedete setta solamente alcune alcune proprietà non fa nulla e estende il kernel del framework ok però noi volendo qua potremmo anche sovrascrivere molte più funzioni del kernel quindi creare un kernel più adeguato alle nostre esigenze andare a ottimizzare molto quindi non caricare determinati middleware o comportarsi o comportarsi diversamente bene quindi abbiamo definito questi questi singleton restituiamo l'applicazione creata bene e quindi la fase di bootstrap direi che si può considerare conclusa lasciamo aperto solo per far vedere che il passo successivo che è quello di creare un kernel tramite il service container è una riga e non ha molto da dire se non che questo kernel qua è esattamente quello che avevamo definito prima il singleton che avevamo definito prima bene quindi possiamo possiamo chiudere questo ramo e ci avviciniamo all'elefante nella stanza ovviamente tutto quello che succede all'interno di Laravel è nascosto dentro queste tre righe abbiamo un kernel e gli diciamo gestiscimi una request partiamo da questo da questo punto intanto apro questo questo mostro qui e andiamo un attimo spero spero che si veda iniziamo da questo che è interessante capture allora cosa succede qua dentro allora intanto premessa Laravel utilizza sia per gli oggetti request che per gli oggetti response la symphony request cioè delle classi che stendono symphony request e symphony e symphony response ok quindi la capture cosa fa prende crea una symphony request create from globals ok quindi qui siamo nel codice del componente di symphony cosa fa questa questa classe prende tutte le informazioni che può da dollar underscore get post cookie files server e genera un oggetto che avrà al suo interno per esempio avrà la funzione headers che mi ritorna un hash con tutti gli header invece di andarmeli a cercare dentro 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 dollar underscore request per dire e è interessante per due motivi uno dentro il core di ralave non ci sono mai riferimenti a dollar underscore server o dollar underscore request si lavora sempre con oggetti di tipo request che poi è una una symphony request perché questo è importante perché ci aiuta a capire ci aiuta a capire questa cosa qua nei test quando noi facciamo questo è un classico test che viene generato dal codice di Laravel questa è un'installazione di Laravel dove non c'è non c'è nulla è Laravel 7 nei test quando io faccio this get cosa fa questa 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 get andiamo a vedere this get fa una call e questa call guardate cosa fa crea una symphony request e poi fa kernel handle quindi ci comportiamo la stessa maniera come una richiesta normale solo che la nostra sorgente non è più una vera richiesta http ma una richiesta finta che abbiamo creato su su quello che ci viene chiesto quindi col metodo get con questi dati con queste con questa query eccetera ok per cui è molto importante perché se io se Laravel dovesse fare riferimento a dollar underscore server in una request del genere non troverebbe dati che si che si aspetta ok bene quindi abbiamo generato questa questa request in realtà noi dalla symphony request facciamo vedete fate new static quindi crea una nuova istanza della della stessa classe imposta content header eccetera e restituisce questo oggetto illuminate come è illuminate http request bene ora però dobbiamo andare dentro la la gestione quindi come viene gestita questa questa request allora apriamo il file foundation kernel perché si apro il kernel mi fa vedere quella eccolo qua quello della dell'applicazione che non contiene il metodo che cerco che cerco che è handle eccolo allora partiamo un attimo a ritroso partiamo dal fondo io restituisco una response così come da 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 documentazione quindi qualsiasi cosa succeda quindi anche in caso di eccezione io restituisco una response e questa response poi viene gestita con la send la vedremo qua giù quando arriviamo qua bene quando l'ho gestita rilascio questo evento request handled noi non ci sono listene per questo per questo evento però lo possiamo creare noi per esempio possiamo calcolare quanto tempo ci è voluta gestire quella quella richiesta quanto tempo tra un evento e l'altro è passato si può fare si può fare un po quello che si vuole sulle eccezioni ci arriviamo ci arriviamo dopo andiamo a vedere come viene gestita questa questa richiesta questo il parametro override allora se vogliamo fare una delit su una rotta e abbiamo un form non possiamo mettere metodo delit perché un form da browser può avere solo getto post però in laravel sappiamo che se mettiamo un parametro nascosto hidden eh chiamato underscore method ci scriviamo delit all'arave la arriverà una una request che è una delit in realtà questo metodo fa in modo di va a controllare questo questo campo se esiste cambia il metodo della request che gli è arrivato eh dall'endor ok e poi lo mandiamo all'interno del router ma prima di mandare all'interno del router dobbiamo fare qualche eh qualche operazione eh allora intanto settiamo che all'inferno l'istanza di request è questa richiesta qua ok quindi da questo momento in poi ogni volta che chiamo eh request che è un helper che mi va a leggere app request andrò a prendere questa questa richiesta specifica qua in qualsiasi punto del codice io avrò sempre una sola request che è quella che mi è arrivato quindi non faccio non faccio confusione vediamo cosa fa questo bootstrap il bootstrap che abbiamo fatto prima è solamente diciamo il bootstrap di ciò che crea l'applicazione poi noi dobbiamo fare il bootstrap dell'applicazione ok e siamo siamo qua su io ho una serie di bootstrapper definiti nel kernel che sono questi qua ok che eh eseguono delle operazioni molto base per eh gestire la request sono abbastanza ehm si capisce bene quello che fanno eh caricano le variabili d'ambiente eh questo qui questo è interessante questo handle exception in realtà fa delle cose molto molto interessanti chiama delle funzioni a basso livello di php per dirgli l'exception handler è la funzione handle exception di questo file che poi va a chiamare exception handler che abbiamo definito all'inizio eh quando per qualsiasi motivo si chiude eh si chiude l'applicazione chiama handle shutdown questo è interessante eh qui sembra che faccia una cosa inutile cosa fa praticamente sta allocando 10k di memoria le sta riempiendo di x perché fa questo eh se vi trovate eh create per per sbaglio comunque un loop infinito quindi cominciate a allocare memoria a un certo punto php crasha con la classica ehm col classico messaggio di errore nero su su sfondo bianco dicendo non sono riuscito a allocare tot memoria ho finito tutta la memoria questo buffer che che crea Laravel serve a poterlo liberare per dare spazio al log manager di poter loggare questo eh questo problema quindi voi non vedete mai o poi se l'avete visto sarò contento di essere smentito un errore standard di php perché comunque ci sono questi 10k di memoria che permettono a php di di allocare le risorse necessarie per monolog e magari mandare un log mandare un email o fare fare qualcosa infatti se andiamo a cercare dove viene usata questa questa variabile si vede che in handle exception liberiamo questa memoria e poi chiamiamo l'exception handler e speriamo che questa memoria possa essere sufficiente però comunque facciamo un tentativo invece di fare crashare eh php così eh senza senza poter senza poter fare nulla torniamo al kernel torniamo ai bootstrapper qui registriamo le facade registriamo le facade che abbiamo configurato noi nel file di configurazione config up non è bootstrap up questo è config up qui ci sono un po' di facade che sono eh che sono state registrate le registriamo in questo momento con con questo ehm con questo eh con questa classe qua eh register providers fa la stessa cosa con i service provider quindi noi nella nostra applicazione abbiamo vari service provider abbiamo quelli definiti dall'app abbiamo quelli definiti dal dai pacchetti che installeremo successivamente vengono istanziati in questo momento dopo la registrazione se conoscete come funzionano i service provider prima si chiama register e poi si chiama boot quindi prima noi li registriamo e poi chiamiamo su ognuno dei service provider chiamiamo boot ok quindi questi sono i bootstrappers quando il kernel ritorniamo a eh dove era endo verso siamo qua eh bootstrapper in realtà fa anche una cosa in più per ogni bootstrapper manda un evento prima e dopo il bootstrapping per cui possiamo anche andare a debuggare se vediamo che la nostra applicazione eh carica molto possiamo andare a vedere ogni bootstrapper quanto ci mette per eh per essere caricato eh una cosa qui mi sono segnato ma non ho trovato risposta queste sono classi queste eh load environment variables load configuration non c'è un'interfaccia io chiamo ehm bootstrap mi pare il metodo bootstrap su queste su queste su questi oggetti però non c'è nessuno che mi assicura che quel metodo ci sia però siamo dentro al codice di Laravel si hanno deciso di fare così sono io e di 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 no andiamo oltre abbiamo fatto il bootstrap dell'applicazione quindi abbiamo tutto i service provider facade siamo siamo pronti cosa facciamo allora questo output ricordiamo è la response ok quindi da qui ci deve uscire l'html o il json o un'eccezione ok allora noi questa request la facciamo passare attraverso una pipeline la pipeline è una classe definita all'interno del diciamo del namespace di routing e cosa fa praticamente gli dico prendi questa request che hai e la mandi dentro tutti i middleware ok i middleware in questo caso si parla di middleware del kernel ok il kernel vediamo se ce l'ho se no il kernel definisce vari middleware questi sono quelli globali ce lo dicono anche i commenti questi sono i middleware globali che vengono eseguiti su ogni richiesta bene non ancora non abbiamo fatto il routing non sappiamo quale controller non sappiamo nemmeno se ci sarà un controller o una una closure che potrà gestire questa questa richiesta però comunque noi qua dentro ci passiamo di solito serve per sanitificare sanitizzare anzi ma in questo periodo gli input gestire le course possiamo aggiungere anche alcuni nostri se vogliamo torniamo qua noi ci facciamo almeno che non abbiamo deciso di schippare middleware facciamo passare la request dentro questi middleware e poi come ultimo step facciamo dispatch to router anche questo ritorno una closure perché anche l'ultimo step è una è una funzione che viene chiamata ok quindi io ritorno una funzione che accetta una request perché questa request viene come se come se fossero dei filtri mando la request mi ritorna la request filtrata mando la request al passo successivo e in fondo quello che succede che il router deve fare il dispatch della request e siamo qua siamo all'inizio di questo albero bene andiamo a vedere ci sono due cose da dire qua uno dobbiamo trovare chi è che deve gestire questa questa request e poi la dobbiamo eseguire quindi partiamo da destra find route qui non ci addentriamo molto ci sono due cose da dire qua da questo match esce fuori una rotta un oggetto route ok il match viene fatto sull'url sul method sull'host e su un quarto parametro che mi sono dimenticato va bene comunque viene fatto su questi quattro parametri della request quando troviamo una rotta che che matcha tutte e quattro questi parametri la restituiamo e inoltre diciamo al container guarda ogni volta che qualcuno ti chiede una un oggetto di tipo route gli restituisci questa rotta qua questo perché è interessante perché io so che in qualsiasi momento all'interno del framework posso chiamare app posso fare app make route class e ho la rotta mia quindi per esempio ho un menu e voglio mettere che ho dei bottoni voglio mettere active uno dei bottoni cioè il bottone che mi rappresenta quella la rotta su cui sono ok per metterlo so evidenziato io posso nella più chiedere dammi la rotta fammi controllare il path ok lo stesso del href di questo di questo link lo metto active ok questo è un modo non pulitissimo per farlo ma è un modo è un modo per farlo bene quindi qua abbiamo trovato una una rotta se non l'abbiamo trovata e lanciata un'eccezione non ci interessa perché abbiamo l'exception handler che andiamo a vedere che andiamo a vedere in fondo la dobbiamo eseguire questa rotta ok quindi andiamo a vedere cosa fa il run route allora qui diciamo che da dire c'è che abbiamo matchato la rotta Laravel lancia un evento quando la rotta viene matchata ok anche questo possiamo agganciarci qualche tipo di statistica per vedere quante volte ci viene chiamata una rotta e non è matchata non lo so comunque questo è un evento lanciato dall'Aravel a questo punto noi facciamo il prepare response di cosa di questa di questa roba qua ok qui abbiamo di nuovo una pipeline però in questo caso i middleware che su cui passa la request quindi viene filtrata questa non sono più quelli del kernel quelli che ne abbiamo già fatte sono quelli gather route middleware sono quelli definiti per la rotta e questi possono venire da più punti perché io li posso specificare nel controller li posso specificare come gruppo all'interno del route service provider e lo posso specificare quando definisco la rotta posso dirgli guarda questa questa rotta qua ha anche questo middleware vengono messi tutti insieme viene creato un array e questa questa request passa all'interno di tutti questi di tutti questi middleware finito finito questo facciamo il prepare response di cosa finalmente facciamo run ok siamo qua siamo abbastanza in fondo non ci addentriamo troppo nel non andiamo troppo nel profondo diciamo che ci sono due casi qui uno è che la rotta sia gestita da un controller e azione quindi potrei aver detto una stringa my controller at index quindi sarà controller my controller e il metodo il metodo index da dire qua che se in realtà noi abbiamo un metodo chiamato collection questo collection viene chiamato prima del metodo index quindi volendo possiamo anche sovrascrivere o diciamo anticipare l'esecuzione di quel di quel metodo sostituendolo con una collection se non è un una controller action qui in realtà viene anche gestito il caso in cui ci siano un single action controller quindi un controller che ci abbia solo underscore underscore invoke viene e comunque fa parte di un controller action altrimenti si fa run callable perché se non è un controller allora ho definito la ho definito la closure come gestore di quella di quella rotta in entrambi i casi si va a vedere il metodo viene fatto tutto il dependency injection quindi se il mio metodo necessita di un repository o di un service viene tutto viene fatto tutto risolvere dal container quindi si chiama quella funzione e gli si mette dentro le dipendenze di quella funzione diciamo che abbiamo eseguito il nostro codice quindi abbiamo il nostro output ok quindi da qui in poi black box noi noi andiamo andiamo avanti allora abbiamo siamo a qua prepare response prepare response è questo questo malloppo qua in due parole cosa fa controlla viene gestito tutto l'output possibile che posso inviare cioè se io invio una stringa allora controlliamo può essere un json se una richiesta ajax altrimenti ritorniamo la stringa se è un eh già una risposta tipo un eh un redirect allora eh la gestiamo e quindi la chiamiamo ricorsivamente insomma eh vengono gestiti tutti i casi di ehm di response che possono arrivare arrivare qua dentro però ancora non la inviamo eh semplicemente la eh la prepariamo per essere inviata quindi settiamo eh settiamo gli headers settiamo i cookies li mettiamo secure se siamo in HTTPS quindi tutte le operazioni su metadati e body della eh della response vengono fatti vengono fatti eh vengono fatti qua dentro e detto questo risalendo tutto l'albero siamo arrivati in fondo ok abbiamo parlato della delle eccezioni e eh abbiamo detto che viene fatto il dispatch di questo eh di questo evento guardiamo un secondo le eccezioni eh anche qua questo è il file che gestisce tutte le eccezioni di Laravel ok si trova dentro la nostra applicazione estende l'exception handler del del framework e eh praticamente chiama solamente i i metodi del del parent quindi non fa molto però qui possiamo definire se abbiamo delle eccezioni che abbiamo definito noi possiamo definire dei comportamenti particolari quindi eh se fare il report o meno di di un'eccezione nostra oppure se renderizzarla con qualche altro plugin invece di ignition per quello che si usa eh adesso però comunque ehm diciamo che questo è l'unico punto dove le eccezioni arrivano ok a questo punto ah e se guardate le il render restituisce anche qui una responsa perché il render di un'eccezione in realtà è dell'HTML è una pagina HTML è successo un'eccezione ma noi ritorniamo una pagina HTML bene andiamo al in fondo diciamo questa l'abbiamo fatta dobbiamo fare il send send in realtà è piuttosto è piuttosto semplice symphony request e response scusate eccola qua facciamo il send e fa due cose al di là poi di chiudere tutti i buffer send headers e send content send headers manda gli header qui si comincia a chiamare le funzioni di PHP quindi da questo momento in poi poi non possiamo più eh intervenire su sull'output e mandate gli header che sono all'interno della eh della responsa quindi c'è un un disk qui eh si chiama send content cosa sarà mai send content ecco disc content quindi vi ho rovinato tutta la magia di un framework in realtà alla fine quello che si fa è fare un eco perché in PHP per mostrare l'output si fa un eco eh quindi è molto è molto semplice però c'è un ultimo punto e sono fortunatamente in orario che è il terminate perché finito la finita la richiesta io posso fare anche altre operazioni questo possiamo chiuderlo apriamo questo nel terminate succedono due cose eh apriamo il kernel eccolo qua terminate si fa due cose si fa il terminate del middleware in pratica ogni middleware e qui si vede che prende sia quelli della rotta sia quelli del ehm del 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 kernel quindi l'ho fatto vedere qua i middleware dove si fa il for each sono sia quelli del kernel che quelli della rotta su ognuno di questi si guarda se esiste un metodo terminate e si esegue quindi in un middleware se dovete fare delle cose successivamente al middleware un log eh scrivere nel database mandare un email eh cancellare dei file lo potete fare e non potete non rubate diciamo tempo eh all'esecuzione perché la risposta è già arrivata al client quindi lo potete fare successivamente la stessa cosa succede nell'app terminate perché questa per esempio è una cosa che io non sapevo eh foundation eccola qua io posso chiamare terminate posso chiamare termi chiamo terminate sull'applicazione e cosa sono queste terminate in callback callbacks sono sono questo ho fatto una prova praticamente io posso dire alla mia app quando hai finito registra questa closure e qui cosa faccio faccio lo slip 5 secondi e poi scrivo faccio un log perché ovviamente non posso stampare nulla perché l'output è già arrivato al client e scrivo finished quindi adesso se io vado qua metto hello perfetto è partito partito il debug ok volevo farvi vedere che qua no scusate devo fare vedere test ok hello world 208 vado a vedere è arrivato subito non abbiamo aspettato 5 secondi vado a vedere nel log e vedo qua il time è 2.13 5 secondi dopo quindi io posso anche far dormire il mio il mio thread però tanto la risposta è già arrivata quindi questo è utile per fare quelle operazioni che consumano tempo e non danno nessun output al client e detto questo abbiamo mandato l'output abbiamo fatto il terminate il request cycle si è concluso e così si è concluso anche il mio thread grazie 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 a te leonardo allora domande se avete avete delle domande su slide non vedo domande in questo momento rivolte a te però chiedo può a chi c'è chi c'è online se avete qualche mentre ci pensate mi ventanto c'è qualcuno che ti dice bravo e ringrazio e questo a questo mi mi unisco naturalmente e rispondo a un paio di domande che che ci sono quindi la se la mind map del request cycle di river sarà disponibile dopo si se si è di interesse si comprerò l'applicazione altrimenti ci sarà il watermark e non mi piace quando fa l'esportazione pdf ma tanto come vedete lo uso da un po di tempo quindi perché no ci chiedono anche se registrazione slide ce le date dopo l'evento questo allora come vedete noi stiamo andando live su youtube ma come spiegavamo all'inizio stiamo andando live su un link privato ci serve solo per così per tenere la registrazione che poi rivedremo editeremo e eventualmente vedremo di pubblicare un po alla volta editata però insomma penso che sentendoci su su slack per le per le slide slide nel tuo caso allora c'è una domanda adesso è arrivata una domanda in effetti ti chiedono se trovi davvero utile la chiusura della request prima di fare altro se si schianta il codice dopo beh diciamo che almeno il nostro utente è stato servito e ci gestiamo noi ci gestiamo noi la cosa il codice diciamo è peggio se si rompe mentre stiamo costruendo la response secondo me può essere può essere utile perché diciamo che pur l'arvel avendo un sistema di di code per cui se dobbiamo mandare un'email solitamente quello che si fa e si si usa una coda si mette il job nella coda e si lascia eseguire a un altro a un altro processo per cose un po più leggere che potrebbe semplicemente anche dire loggare il tempo che ci ha messo a fare la request senza fare perdere tempo anche se si tratta di pochi millisecondi senza far perdere tempo all'utente che aspetta che quello che venga venga scritto quindi sì io l'ho usato poco però ora che diciamo pensando nello sviluppo di questo talk ci possono essere delle cose che anche la cancellazione di un file per esempio fai l'upload di un'immagine la tieni lì e poi la cancelli perché magari sono immagini uploadate che poi nessuno ha registrato faccio per dire un'immagine grossa magari impiega qualche millisecondo in più perché far aspettare il client facciamolo dopo se poi si rompe il codice lo gestiamo però almeno salviamo la faccia grazie ancora a questo proposito quali tipi di operazione è sicuro fare in quest'ultima fase terminate ad esempio è rischioso scrivere su db non è più rischioso che scriverlo cioè php può essere usata anche al di fuori del contesto http ok quindi noi stiamo lavorando in http sì però non abbiamo chiuso la connessione cioè il nostro codice va avanti noi abbiamo semplicemente finito di mandare il pacchetto http poi possiamo continuare a lavorare come se fossimo diciamo durante la richiesta quindi non è non è né più rischioso nemmeno nemmeno rischioso perché comunque anche tutte le risorse c'è la connessione al db è sempre attiva tutte queste queste risorse vengono rilasciate nel momento in cui il mio codice finisce ma il mio codice finisce qua quando ho finito il terminate allora sì c'è tutto il lo shutdown di php non prima e ancora questo forse esula un pochino ma vorrei conoscere il tuo punto di vista perché si continua a denigrare php come linguaggio di back end per progetti abbastanza importanti e aggiunge un anonimo complimenti grazie allora io diciamo più o meno perché io denigro perché quelli di lavorare in php denigrano il java diciamo penso siano più lotte di partito tra virgolette ci sono grossi progetti in php facebook stesso a meno che non abbia cambiato stack però è sempre quando è nato è sempre stato in php wordpress in php che non è per forza una cosa positiva per php però non è un linguaggio che se scala si rompe ci sono soluzioni ora fortunatamente abbiamo tante altre soluzioni ma php c'è da una vita se continuo avere tutta questa vita ho sentito oggi un podcast un progetto per rendere php asincrono perché evidentemente c'è ancora diciamo l'ecosistema è grande la base utenti è grande io sinceramente non credo io ci farei un progetto grosso in php ma dipende dal progetto non ci farei un progetto grosso che posso fare su delle lambda o in ojs perché in ojs si adatta di più a progetti a prodotti che fanno tanto input output quindi ogni linguaggio al suo caso d'uso allora ancora grazie ti riporto anche qui invece che domande c'è qualcuno che ha scritto bravo grazie simone grazie complimenti leonardo alberto bravissimo applauso la tua professionalità direi che è andato bene sono contento vi ricordo di andare a riportare anche tutti questi ringraziamenti e complimenti su joinin potete fare il rate al talk così rimane rimane nello storico